non è una battuta ma la verità chi va a fatima matteo salvini e chi a palazzo chigi da mario draghi giorgia meloni viene facile un doppio pensiero che sono visite non occasionali non tanto non soltanto per scelte che hanno a che fare con la polis dati personaggi ma per le apparentemente opposte motivazioni delle stesse nel contempo le ragioni salviniane del pellegrinaggio e nell'invocazione alla madonna con l'offerta di due ceri uno per i miei figli uno per il mio popolo in nome anche di una auspicata unità del centro destra soprattutto fanno prevalere un retropensiero squisitamente politico che ha a che fare proprio con giorgia meloni e il suo viaggio visita direzione mario draghi il mix di umano e di divino senza scadere in sfacciati ex voto è dunque un pretesto salviniano sia pur nobile per una riflessione pubblica nella quale la preoccupazione del leader della lega ha a che fare con la nuova situazione interna al centro destra dove la crescita di giorgia meloni canonizzata mediaticamente da una lunga intervista sul corriere della sera pone oggettivamente una qualche questione a proposito dei futuri esiti personali ai vertici della coalizione con quella che è dai più definita una sicura vittoria elettorale una vittoria nella quale la probabilità di un sorpasso dei consensi della meloni è destinato a qualcosa di diverso da una lotta in casa e vinca il migliore ma un venir meno o almeno ad un raffreddarsi delle legittime aspettative salviniane per palazzo chigi aspettative che salvini ha metodicamente perseguito con scelte per lui inedite con una svolta verso l'area centrale dello scacchiere politico scandendo principi funzionali ad una governabilità ampia dove siano assenti o smorzati i toni da comizio di paese e specialmente le ostilità all'europa non meno che quelle forme di populismo sfrenato e di giustizialismo cui sembrano ora delegati pentastellati divisi a loro volta sulle diversità del nuovo luigi di maio buona 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 buona